ciao a tutti gli amici di grange fotografia oggi siamo a misano adriatico in compagnia di due grandissime firme della fotografia sportiva luca gambuti e mirco lazzari per un progetto perché profoto ha illuminato il gran premio d'italia di superbike con la sua luce da alcuni anni insieme all'organizzazione del mondiale superbike del world superbike creiamo un libro che racconta tutta la stagione ma non solo con le foto fatte sulla pista ma anche con un servizio creato doc in studio quest'anno abbiamo avuto l'opportunità qui a misano di avere l'aiuto di profoto che con i suoi flash da una grandissima mano come tutti gli anni la sfida è trovare qualcosa è diverso con mirco ci confrontiamo passiamo un inverno intero a cercare un tema differente quest'anno appunto è stato quello dei colori circuito che si prestava tantissimo perché coloratissima dalle grafiche di aldo drudi e quindi abbiamo riportato in studio grazie alle gelatine colorate e alla creatività che si offrono questi flash questa questa idea quindi abbiamo colorato tutti i piloti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti